Mentre prosegue il muro contro muro tra governo e regioni sul futuro della cassa integrazione in deroga, nuovi dati allarmanti per quanto riguarda la Toscana arrivano dai sindacati. Uno in particolare. La UIL ha infatti certificato un boom delle richieste di cassa integrazione a novembre. 9 milioni di ore di lavoro non retribuito, più del doppio di quanto si è registrato ad ottobre. E se si scorpora provincia per provincia le cose non vanno certo meglio. Grosseto infatti si certifica come la provincia peggiore d'Italia, con il 775% in più di ore di cassa integrazione erogate rispetto allo scorso ottobre. Va molto male anche a Siena e a Livorno, mentre uniche province toscane in controtendenza sono Massacarrara e Arezzo. La preoccupazione però, sottolinea il numero uno della UIL regionale, Vito Marchiani, è che la cassa integrazione di oggi possa trasformarsi in disoccupazione domani. E a questo quadro desolante va sommato quello che interessa alla CIG in deroga. Qui siamo nel campo delle ipotesi, soprattutto per quanto riguarda il futuro dell'ammortizzatore riservato alle piccole imprese e al commercio. Mentre il governo sta ragionando su come modificare le modalità d'accesso per il 2014, la Toscana sta invece facendo i conti con l'anno che sta per concludersi. Delle 12.300 richieste inoltrate all'Inps infatti, 7.200 risultano senza copertura, praticamente tutte quelle autorizzate da luglio a dicembre. L'assessore regionale al lavoro Gianfranco Simoncini ha quindi chiesto al governo di assegnare tutte le risorse necessarie a chiudere l'anno. E ha chiesto anche certezze sul 2014, altrimenti, arriva Dito Simoncini, le regioni potrebbero rinunciare al loro ruolo di gestore, per conto dello Stato, del sistema della CIG in deroga. 5 piazze per 5 diversi generi musicali, dal gospel di Piazza Santissima annunziata, alla musica classica di Piazza della Signoria, dal jazz di Piazza della Repubblica, al DJ set di Largo Annigoni. Ecco qui il menu per chi vorrà festeggiare l'ultima notte del 2013 a Firenze. Il menu il cui evento clou sarà il concerto pop di Max Pezzali, l'ex leader degli 883, si esibirà a partire dalla mezzanotte nel piazzale antistante alla stazione di Santa Maria Novella e punta a trasformare la propria esibizione in un grande karaoke a cielo aperto. Il concerto pop deve diventare un po' anche quello, il fatto che a un certo punto il pubblico si mette a cantare. E visto che ho verificato che appunto nelle date precedenti del tour questa cosa si è creata, questa sorta di interazione continua col pubblico, mi piacerebbe che si creasse anche domani notte. Ed è proprio l'idea di favorire l'interazione tra le 150.000 persone attese a Firenze nella notte di San Silvestro che ha spinto il sindaco Matteo Renzi a concentrare le iniziative di Capodanno proprio nelle piazze. Il primo dell'anno si aspetta in piazza, cioè c'è un valore di cittadinanza, di condivisione. Noi siamo dell'idea, siamo convinti che sia bello andare a incrociare gli sguardi, a incontrarsi, a condividere un momento di gioia come quello del saluto all'anno vecchio e dell'arrivo all'anno nuovo. Un saluto costato 580.000 euro, tutto però a spese degli sponsor senza che un solo centesimo sia uscito dalle casse di Palazzo Vecchio. Pur essendo sensibile al vostro desiderio di favorire l'accesso ai capolavori dell'umanità a un numero sempre maggiore di persone, non posso tuttavia accogliere la vostra richiesta. Eccola qui la risposta ufficiale con cui il direttore generale del patrimonio culturale francese nega al presidente del Comitato per la Valorizzazione dei Beni Culturali, Silvano Vinceti, il prestito a Firenze della Gioconda di Leonardo da Vinci. Una risposta negativa che arriva a due anni dalla richiesta fatta dallo stesso Vinceti e il motivo del no dei francesi è scritto nella lettera stessa. La Gioconda è infatti l'immagine del Louvre e non può essere sottratta ai circa 8 milioni di turisti che ogni anno visitano il museo. Una chiusura definitiva dunque, ma non secondo Vinceti, l'uomo che da anni è impegnato nella ricerca dei resti mortali di Lisa Gherardini, ritenuta la modella di Leonardo, e che nella lettera legge una richiesta di compensazione. A Firenze c'è il David di Michelangelo, potrebbe essere un compensativo, potrebbe essere uno scambio di opere d'arte del secolo, del secolo attuale. Non dimentichiamoci che la libera circolazione di opere d'arte fa parte integrante ormai di quello che sono i principi fondamentali che legano l'Unione Europea. Vinceti lancia dunque un appello al ministro dei beni culturali Massimo Brai e al sindaco di Firenze Matteo Renzi perché sposino la sua causa e appoggino il progetto verso le autorità francesi. Anche perché, sottolinea Vinceti, avere temporaneamente la Gioconda a Firenze significherebbe un milione e mezzo circa di turisti in più ogni anno. È di 50 milioni di euro il pacchetto di misure approvato dalla Giunta regionale per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico in Toscana. 106 gli interventi inseriti nel documento annuale per la difesa del suolo che saranno realizzati nel corso del 2014. Il documento, introdotto quest'anno grazie alle recenti normative regionali, consiste in un unico atto con il quale vengono selezionati e programmati gli interventi di difesa del suolo da realizzare sulla base di requisiti di urgenza e cantierabilità. Il maggior numero delle misure previste, con un numero di 51, riguarderà il bacino dell'Arno, considerato una priorità assoluta. 35 interventi interesseranno invece il bacino Toscana Nord, 20 il bacino Toscana Sud e Costa. Un piano per l'ambiente che, secondo l'assessore regionale Anarita Bramerini, permetterà di ridurre concretamente i rischi idrogeologici, evitando di agire soltanto dopo il verificarsi dei danni. E lo sguardo va anche più al futuro, dato che il documento approvato prevede anche fondi da destinare alla creazione di un parco progetti che potrà essere utilizzato per programmare le misure da attuare nel corso del 2015. A partire dai primi giorni del 2014 negli ospedali della Toscana, i pazienti che soffrono di determinate malattie potranno essere curati anche attraverso medicinali a base di cannabis. Il 30 dicembre, infatti, tutte le ASL della regione hanno ricevuto dall'assessorato alla sanità le disposizioni necessarie ad applicare una legge che, per la verità, in Toscana è in vigore già dal maggio del 2012, ma che fino ad ora non poteva essere effettivamente operativa. Mancava infatti il regolamento attuativo licenziato con delibera di giunta solo il 23 dicembre scorso. A questo punto i direttori generali delle ASL avranno il compito di individuare le strutture, ospedali o cliniche dove sarà possibile prescrivere e somministrare i medicinali cannabis derivati approvati dal Ministero della Salute come il Bedrocan o il Sativex. Le ricette non saranno ripetibili e nel caso in cui ci fosse necessità di proseguire il trattamento al di fuori delle strutture ospedaliere, saranno comunque i medici a dover fornire i farmaci al paziente. Visto che si tratta di medicinali passati dal sistema sanitario regionale, poi potranno accedere a queste cure solo i pazienti residenti o domiciliati in Toscana. Il campo di applicazione è vasto. Si va dai malati di sclerosi multipla a chi soffre di glaucoma o di dolori cronici neuropatici, a chi lamenta nausea e vomito dovuti agli effetti della chemioterapia. Mentre sono esclusi i pazienti che soffrono di patologie cardiovascolari, insufficienza renale o hanno una storia di dipendenza di qualsiasi natura. L'introduzione del regolamento attuativo della legge sui cannabinoidi è stata salutata con favore dai consiglieri regionali del Partito Democratico Enzo Broggi e di Sinistra Ecologia e Libertà Mauro Romanelli, secondo cui però il testo della delibera è ulteriormente migliorabile, anche se rimane un passo avanti per una battaglia di civiltà che dà speranza a tanti ammalati. Il 24 gennaio scadrà il tempo per pagare la mini-imu sulla prima casa. 127 comuni toscani nel 2013 hanno infatti alzato la liquota per l'imposta sull'abitazione principale al di sopra del 4 per mille, portandola a chi al 4,2 e chi fino al 6. Misura legittima che però lo Stato ha deciso di non rimborsare per intero ai comuni, lasciando da pagare il 40% di questo incremento ai proprietari di case. In media si tratta di una piccola cifra, nel comune di Livorno ad esempio ci si aggira attorno ai 20 euro, ma calcolarla è complicato tanto che i call center dei CAF della CGL solo nel mese di dicembre hanno ricevuto 24.700 telefonate di cittadini ansiosi di mettersi in regola. Si rischia che alcuni cittadini dovranno pagare magari molto di più per la consulenza che per l'imposta. Io credo che se non si voleva far pagare l'imposta sulla prima casa per il 2012 bisognava che lo Stato si facchesse carico del totale costo di questa operazione. Così non è stato, ma confusione. Si aggiunge confusione. Ogni comune ha infatti fissato una quota di versamento minimo per le imposte tra i 2 e i 18 euro. Abbiamo alcuni comuni che hanno una soglia di 2 euro per cui un'imposta che supera quella soglia va pagata, altri comuni che hanno una soglia fino a 18 euro per cui si paga solo se si supera quella soglia come imposta complessiva. La CGL ha calcolato che il 15% circa dei proprietari di case potrebbe essere esentato dal pagamento della mini IMU ma per capirlo, e qui sta il paradosso, si dovranno elaborare le singole pratiche. Risultato? Ci sarà chi, pur non dovendo versare l'imposta, dovrà pagare il CAF o il commercialista che gliel'avrà calcolata. Un museo del Novecento per raccogliere il patrimonio artistico del secolo scorso che la città di Firenze possiede. Da tempo annunciato, il progetto sembra ora vedere la realizzazione con la data di inaugurazione, già fissata al 30 di aprile in occasione della Notte Bianca. A presentarne le caratteristiche il sindaco di Firenze Matteo Renzi e l'assessore alla cultura Sergio Givone, mostrando gli spazi ristrutturati ma ancora da allestire all'interno della struttura che ha trovato sede nell'ex convento delle Leopoldine davanti alla chiesa di Santa Maria Novella. Un'idea di museo opera aperta, museo laboratorio. Cioè, chi verrà qui verrà non tanto per godere di alcune opere d'arte, alcune grandi opere d'arte che hanno illustrato il Novecento, ma verrà per esplorare, conoscere, verrà per fare un viaggio dentro il Novecento. 2.600 metri quadrati distribuiti su cinque piani e un chiostro interno, con 800 metri quadrati di superficie espositiva, in 20 sale. Oltre 2.300 le opere contemporanee che troveranno spazio nella struttura, nel cui restauro l'ente cassa di risparmio ha investito 6 milioni di euro. Ma sono anche altre le novità in arrivo nella prossima primavera. Secondo quanto annunciato, maggio sarà il mese dell'inaugurazione dell'accesso al Teatro Romano sotto Palazzo Vecchio e dell'apertura del Teatro dell'Opera. Intanto, l'assessore Givone fa sapere che il 13 gennaio presenterà una nuova cabina di regia che sarà incaricata di gestire tutti i fondi comunali destinati alla cultura. La legge elettorale si può fare entro un mese. Una tempestica spiazzante, abituati ai rinvii della politica, quella di Matteo Renzi, che da Firenze, in occasione di una conferenza stampa indetta per presentare alcune novità nell'offerta culturale della città, presenta le tre proposte di legge elettorale inviate ai partiti. Il nocciolo della richiesta è basta seguire la logica della convenienza, troviamo un accordo comune. Chi vince deve essere chiaro il giorno stesso, chi vince deve governare per cinque anni senza inciuci e senza larghe intese e chi vince deve garantire un sistema dell'alternanza. Stabilità sì, ma alternanza. La prima è una riforma basata sulla legge elettorale spagnola, divisione del territorio in 118 circoscrizioni, con attribuzione alla lista vincente di un premio di maggioranza del 15%. La seconda è la rivisitazione della legge Mattarella, con 475 collegi uninominali e premio di maggioranza al 15%. Infine, la riforma sul modello del doppio turno di coalizione dei sindaci. Chi vince prende il 60% dei seggi, i restanti sono suddivisi tra i perdenti. Renzi punta tutto dunque sulla tempistica, necessaria per la sua credibilità da innovatore, e sul dialogo aperto a tutte le parti politiche, ma con particolare attenzione al Movimento 5 Stelle. È a Grillo che il segretario del PD, dalle colonne del Fatto Quotidiano, lancia un appello alla collaborazione anche sulla riforma del bicameralismo, con la trasformazione del Senato in Camera delle Autonomie. Cresce grazie alla solidarietà il fondo della Regione Toscana, destinato al microcredito per i lavoratori e le lavoratrici in difficoltà. Benefattrice questa volta è la CGL Toscana, che, ottenuti 30.000 euro dal risarcimento di una causa civile intentata contro un quotidiano nazionale per diffamazione, sceglie di destinare la cifra al fondo per il microcredito. Non sono soldi che arrivano da nostri iscritti, ci sembrava giusto che tornassero con un segno nella società. E il segno che gli abbiamo voluto dare appunto è quello di finanziare il microcredito istituito dalla Regione per sostenere sia i lavoratori in difficoltà, sia le persone che in questa crisi stanno soffrendo particolarmente e hanno difficoltà ad accedere al credito. Una somma che va ad aggiungersi ai 5 milioni di euro l'anno per tre anni, garantiti dalla Regione al fine di assicurare la copertura totale degli interessi e delle garanzie sugli importi erogati dalle banche. Una misura messa a punto per andare incontro alle difficoltà di chi, complice la crisi, non riceve lo stipendio da almeno due mesi. L'iniziativa di stare vicino a chi ha difficoltà e soprattutto a coloro che hanno bisogno di avere contributi, di avere un reddito, io credo sia una delle più importanti che abbiamo messo in campo e purtroppo penso anche nel corso del 2014 destinata a crescere. Il Presidente Rossi ha colto l'occasione per chiedere risposte al Governo Letta sul taglio del 10% operato dalla legge di stabilità sui contratti di solidarietà. Il Governatore ha fatto sapere che la Regione si impegnerà affinché ai lavoratori non manchi quello che il Governo ha deciso di tagliare. A due anni e mezzo dal referendum del 12 e 13 giugno del 2011, quando 26 milioni di italiani votarono per cancellare dalle bollette dell'acqua la voce remunerazione del capitale investito, l'autorità nazionale per le energie e il gas ha disposto il rimborso ai cittadini toscani della quota prelevata illegittimamente dalle società che gestiscono il servizio idrico. Si tratta di pochi euro per ciascuna utenza, secondo i calcoli effettuati dall'AIT. Nell'area servita da Acqua e Spa, i cittadini si vedranno restituire 4,55 euro, mentre chi ha come gestore Acquedotto Fiora solo 37 centesimi. I cittadini serviti da Asa e Nuove Acque riceveranno invece rimborsi per 2,28 euro e 1,29 euro, mentre rimane per ora in sospeso il rimborso da parte di Gaia. Chi dovrà pagare di più sarà invece Publiacqua, che rimborserà ogni utente con 5,36 euro. In ogni caso tutti i cittadini si vedranno restituire questi soldi nella prossima bolletta, e comunque non oltre marzo 2014. Si tratta, come detto, di somme minime, visto che il rimborso includerà soltanto il periodo compreso tra il 21 luglio del 2011, giorno della cancellazione effettiva della remunerazione del capitale, e il 31 dicembre dello stesso anno. A inizio 2012 è infatti entrata in vigore la tariffa transitoria, studiata dall'Autorità Nazionale per le Energie e il Gas, che di fatto ha annullato gli effetti del referendum. Anche per questo il Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua ha confermato che entro il 7 gennaio prossimo presenterà un ricorso al TAR contro il metodo di calcolo di questi rimborsi. Mentre prosegue il muro contro muro tra governo e regioni sul futuro della cassa integrazione in deroga, nuovi dati allarmanti per quanto riguarda la Toscana arrivano dai sindacati, uno in particolare. La UIL ha infatti certificato un boom delle richieste di cassa integrazione a novembre, 9 milioni di ore di lavoro non retribuito, più del doppio di quanto si è registrato ad ottobre. E se si scorpora provincia per provincia, le cose non vanno certo meglio. Grosseto infatti si certifica come la provincia peggiore d'Italia, con il 775% in più di ore di cassa integrazione erogate rispetto allo scorso ottobre. Va molto male anche a Siena e a Livorno, mentre uniche province toscane in controtendenza sono Massacarrara e Arezzo. La preoccupazione però, sottolinea il numero uno della will regionale, Vito Marchiani, è che la cassa integrazione di oggi possa trasformarsi in disoccupazione domani. E a questo quadro desolante va sommato quello che interessa alla CIG in deroga. Qui siamo nel campo delle ipotesi, soprattutto per quanto riguarda il futuro dell'ammortizzatore riservato alle piccole imprese e al commercio. Mentre il governo sta ragionando su come modificare le modalità d'accesso per il 2014, la Toscana sta invece facendo i conti con l'anno che sta per concludersi. Delle 12.300 richieste inoltrate all'Inps infatti, 7.200 risultano senza copertura, praticamente tutte quelle autorizzate da luglio a dicembre. L'assessore regionale al lavoro Gianfranco Simoncini ha quindi chiesto al governo di assegnare tutte le risorse necessarie a chiudere l'anno e ha chiesto anche certezze sul 2014, altrimenti, arriva Dito Simoncini, le regioni potrebbero rinunciare al loro ruolo di gestore, per conto dello Stato, del sistema della CIG in deroga. Pur essendo sensibile al vostro desiderio di favorire l'accesso ai capolavori dell'umanità a un numero sempre maggiore di persone, non posso tuttavia accogliere la vostra richiesta. Eccola qui la risposta ufficiale con cui il direttore generale del patrimonio culturale francese nega al presidente del Comitato per la valorizzazione dei beni culturali, Silvano Vinceti, il prestito a Firenze della Gioconda di Leonardo da Vinci. Una risposta negativa che arriva a due anni dalla richiesta fatta dallo stesso Vinceti e il motivo del no dei francesi è scritto nella lettera stessa. La Gioconda è infatti l'immagine del Louvre e non può essere sottratta ai circa 8 milioni di turisti che ogni anno visitano il museo. Una chiusura definitiva dunque, ma non secondo Vinceti, l'uomo che da anni è impegnato nella ricerca dei resti mortali di Lisa Gherardini, ritenuta la modella di Leonardo, e che nella lettera legge una richiesta di compensazione. A Firenze c'è il David di Michelangelo, potrebbe essere un compensativo, potrebbe essere uno scambio di opere d'arte del secolo, del secolo attuale. Non dimentichiamoci che la libera circolazione di opere d'arte fa parte integrante ormai di quelli che sono i principi fondamentali che legano l'Unione Europea. Vinceti lancia dunque un appello al ministro dei beni culturali Massimo Brai e al sindaco di Firenze Matteo Renzi, perché sposino la sua causa e appoggino il progetto verso le autorità francesi. Anche perché, sottolinea Vinceti, avere temporaneamente la Gioconda a Firenze significherebbe un milione e mezzo circa di turisti in più ogni anno. È di 50 milioni di euro il pacchetto di misure approvato dalla Giunta regionale per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico in Toscana. 106 gli interventi inseriti nel documento annuale per la difesa del suolo che saranno realizzati nel corso del 2014. Il documento, introdotto quest'anno grazie alle recenti normative regionali, consiste in un unico atto con il quale vengono selezionati e programmati gli interventi di difesa del suolo da realizzare sulla base di requisiti di urgenza e cantierabilità. Il maggior numero delle misure previste, con un numero di 51, riguarderà il bacino dell'Arno, considerato una priorità assoluta. 35 interventi interesseranno invece il bacino Toscana Nord, 20 il bacino Toscana Sud e Costa. Un piano per l'ambiente che, secondo l'assessore regionale Anarita Bramerini, permetterà di ridurre concretamente i rischi idrogeologici, evitando di agire soltanto dopo il verificarsi dei danni. E lo sguardo va anche più al futuro, dato che il documento approvato prevede anche fondi da destinare alla creazione di un parco progetti che potrà essere utilizzato per programmare le misure da attuare nel corso del 2015. A partire dai primi giorni del 2014 negli ospedali della Toscana, i pazienti che soffrono di determinate malattie potranno essere curati anche attraverso medicinali a base di cannabis. Il 30 dicembre, infatti, tutte le ASL della regione hanno ricevuto dall'assessorato alla sanità le disposizioni necessarie ad applicare una legge che, per la verità, in Toscana è in vigore già dal maggio del 2012, ma che fino ad ora non poteva essere effettivamente operativa. Mancava infatti il regolamento attuativo licenziato con delibera di giunta solo il 23 dicembre scorso. A questo punto i direttori generali delle ASL avranno il compito di individuare le strutture, ospedali o cliniche dove sarà possibile prescrivere e somministrare i medicinali cannabis derivati approvati dal Ministero della Salute, come il Bedrocan o il Sativex. Le ricette non saranno ripetibili e nel caso in cui ci fosse necessità di proseguire il trattamento al di fuori delle strutture ospedaliere, saranno comunque i medici a dover fornire i farmaci al paziente. Visto che si tratta di medicinali passati dal sistema sanitario regionale, poi potranno accedere a queste cure solo i pazienti residenti o domiciliati in Toscana. Il campo di applicazione è vasto. Si va dai malati di sclerosi multipla a chi soffre di glaucoma o di dolori cronici neuropatici. a chi lamenta nausea e vomito dovuti agli effetti della chemioterapia. Mentre sono esclusi i pazienti che soffrono di patologie cardiovascolari, insufficienza renale o hanno una storia di dipendenza di qualsiasi natura. L'introduzione del regolamento attuativo della legge sui cannabinoidi è stata salutata con favore dai consiglieri regionali del Partito Democratico Enzo Broggi e di Sinistra Ecologia e Libertà Mauro Romanelli, secondo cui però il testo della delibera è ulteriormente migliorabile, anche se rimane un passo avanti per una battaglia di civiltà che dà speranza a tanti ammalati. Il 24 gennaio scadrà il tempo per pagare la mini-imu sulla prima casa. 127 comuni toscani nel 2013 hanno infatti alzato l'aliquota per l'imposta sull'abitazione principale al di sopra del 4 per mille, portandola a chi al 4,2 e chi fino al 6. Misura legittima che però lo Stato ha deciso di non rimborsare per intero ai comuni, lasciando da pagare il 40% di questo incremento ai proprietari di case. In media si tratta di una piccola cifra, nel comune di Livorno ad esempio ci si aggira attorno ai 20 euro, ma calcolarla è complicato tanto che i call center dei CAF della CGL solo nel mese di dicembre hanno ricevuto 24.700 telefonate di cittadini ansiosi di mettersi in regola. Si rischia che alcuni cittadini dovranno pagare magari molto di più per la consulenza che per l'imposta. Io credo che se non si voleva far pagare l'imposta sulla prima casa per il 2012 bisognava che lo Stato si facesse carico del totale costo di questa operazione. Così non è stato, ma confusione, si aggiunge confusione. Ogni comune ha infatti fissato una quota di versamento minimo per le imposte tra i 2 e i 18 euro. Abbiamo alcuni comuni che hanno una soglia di 2 euro per cui un'imposta che supera quella soglia va pagata, altri comuni che hanno una soglia fino a 18 euro per cui si paga solo se si supera quella soglia come imposta complessiva. La CGL ha calcolato che il 15% circa dei proprietari di case potrebbe essere esentato dal pagamento della mini IMU, ma per capirlo, e qui sta il paradosso, si dovranno elaborare le singole pratiche. Risultato? Ci sarà chi, pur non dovendo versare l'imposta, dovrà pagare il CAF o il commercialista che gliel'avrà calcolata. La legge elettorale si può fare entro un mese. Una tempestica spiazzante, abituati ai rinvii della politica, quella di Matteo Renzi, che da Firenze, in occasione di una conferenza stampa indetta per presentare alcune novità nell'offerta culturale della città, presenta le tre proposte di legge elettorale inviate ai partiti. Il nocciolo della richiesta è «basta seguire la logica della convenienza, troviamo un accordo comune». Chi vince deve essere chiaro il giorno stesso, chi vince deve governare per cinque anni senza inciuci e senza larghe intese e chi vince deve garantire un sistema dell'alternanza. Stabilità sì, ma alternanza. La prima è una riforma basata sulla legge elettorale spagnola, divisione del territorio in 118 circoscrizioni, con attribuzione alla lista vincente di un premio di maggioranza del 15%. La seconda è la rivisitazione della legge Mattarella, con 475 collegi uninominali e premio di maggioranza al 15%. Infine la riforma sul modello del doppio turno di coalizione dei sindaci, chi vince prende il 60% dei seggi, i restanti sono suddivisi tra i perdenti. Renzi punta tutto dunque sulla tempistica necessaria per la sua credibilità da innovatore e sul dialogo aperto a tutte le parti politiche, ma con particolare attenzione al Movimento 5 Stelle. È a Grillo che il segretario del PD, dalle colonne del Fatto Quotidiano, lancia un appello alla collaborazione anche sulla riforma del bicameralismo con la trasformazione del Senato in Camera delle Autonomie. Cresce grazie alla solidarietà il Fondo della Regione Toscana destinato al microcredito per i lavoratori e le lavoratrici in difficoltà. Benefattrice questa volta è la CGL Toscana, che ottenuti 30.000 euro dal risarcimento di una causa civile intentata contro un quotidiano nazionale per diffamazione, sceglie di destinare la cifra al Fondo per il microcredito. Non sono soldi che arrivano da nostri iscritti, ci sembrava giusto che tornassero con un segno nella società. E il segno che gli abbiamo voluto dare appunto è quello di finanziare il microcredito istituito dalla Regione per sostenere sia i lavoratori in difficoltà sia le persone che in questa crisi stanno soffrendo particolarmente e hanno difficoltà ad accedere al credito. Una somma che va ad aggiungersi ai 5 milioni di euro l'anno per tre anni, garantiti dalla Regione al fine di assicurare la copertura totale degli interessi e delle garanzie sugli importi erogati dalle banche. Una misura messa a punto per andare incontro alle difficoltà di chi, complice la crisi, non riceve lo stipendio da almeno due mesi. L'iniziativa di stare vicino a chi ha difficoltà e soprattutto a coloro che hanno bisogno di avere contributi, di avere un reddito, io credo sia una delle più importanti che abbiamo messo in campo e purtroppo penso anche nel corso del 2014 destinata a crescere. Il Presidente Rossi ha colto l'occasione per chiedere risposte al Governo Letta sul taglio del 10% operato dalla legge di stabilità sui contratti di solidarietà. Il Governatore ha fatto sapere che la Regione si impegnerà affinché ai lavoratori non manchi quello che il Governo ha deciso di tagliare. Grazie.